Cominciano anche nella città di Caltanissetta le iniziative di solidarietà a sostegno della Fondazione Teleton. Il 13 dicembre infatti sono stati allestiti all'interno del CEF Pass e per l'esattezza nei padiglioni 3, 11 e 13 dei banchetti per raccogliere fondi, con l'obiettivo appunto di sostenere la ricerca. Impegnati a partire dalle 10 del mattino in questa iniziativa, gli studenti universitari di Sinapsis, guidati da Alessandro Alù, in collaborazione con Udu Palermo. Nello stesso giorno, previsto anche un altro banchetto a Resuttano, allestito per Teleton da un gruppo di volontari della locale Croce Rossa. L'impegno del coordinamento provinciale Teleton per Caltanissetta, grazie alla sinergia e collaborazione con altri enti, associazioni, scuole e non solo, continuerà anche nei prossimi giorni con l'organizzazione di altre manifestazioni. Sabato 17 dicembre, infatti, si svolgerà il primo torneo Caltanissetta per Teleton, mentre martedì 20 dicembre la seconda edizione della Partita del Cuore. Oggi abbiamo organizzato una raccolta fondi a favore di Teleton. Teleton è una fondazione che si occupa della ricerca contro le malattie genetiche da lontano 1990. Noi abbiamo proposto questa iniziativa ieri a Palermo, al Policlinico di Palermo e al Viale delle Scienze. Oggi siamo qui a Caltanissetta, al CEF Pass e presso i padiglioni 3, 11 e 13, a vendere appunto dei prodotti Teleton per aiutare la ricerca. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare gli studenti di medicina e non solo, per aiutare Teleton contro la ricerca delle malattie genetiche. Sì, diciamo che la raccolta è andata abbastanza bene. Ora speriamo che durante la pausa pranzo riusciamo ad aumentare la nostra raccolta. Già diciamo che l'importo è abbastanza buono, tra la raccolta di ieri a Palermo e quella di oggi che stiamo affettuando a Caltanissetta. La Caltanissetta si svolgerà principalmente oggi dalle 10 alle 19, mentre a Palermo si è svolta ieri e continuerà oggi e domani. Il messaggio per i giovani è che la ricerca aiuta moltissimo contro questo genere di malattie, infatti grazie alla ricerca sono state sconvitte molte malattie genetiche, dapprima non si conoscevano appunto le cure contro queste malattie, e che appunto dobbiamo aiutare la ricerca affinché si riescano a sconviggere queste malattie rare. Soprattutto in Italia la ricerca non è per nulla considerata.